Allora, video velocissimo, sabato prossimo, quello che sta per arrivare, il 5 di marzo, ci sarà un corso, a distanza ma pratico, nel senso che non mi vedrete vestito così, mi vedrete in divisa da chef, che è cucino, è un corso di cucina amatoriale, quindi cucinerò in una cucina amatoriale, quella di mia moglie, tanto per intendersi, e il tema sarà la bistecca, la bistecca perfetta, perché vi registro questo video, sapete che io solitamente non registro un video per ognuno dei miei corsi, anzi c'è un sacco di corsi e non hanno nessun video, questo è particolare, è particolare perché mi avete spesso sentito parlare della bromelina benissimo, Siccome mi ritrovo un prodotto che ce l'ha tra le mani in questo momento, ho deciso che una delle ricette del corso stesso, parliamo, vi ricordo, di bistecche costate eccetera eccetera, sarà fatto con la bromelina, quindi se non volete perdervi l'occasione, diciamo che fate in fretta. Allora, il corso costa 58 euro, sono due ore a distanza, lo ripeto, su Meet, dalle 10 alle 12, vi ricordo che è sabato mattina, naturalmente consiglio di arrivare sempre 5-10 minuti prima, per essere sicuri poi che non ci siano problemi durante la partecipazione, come ci si scrive? Mi si manda un messaggio su whatsapp al 349-220-7339 o signal, il numero è sempre lo stesso, 349-220-7339 oppure su telegram se vi piace di più questo, cercate Fraschef, mi trovate senza problemi, oppure mi mandate un'email al mio indirizzo fradefra-fraschef.it, insomma i modi li avete. Detto ciò, ci vediamo sabato, ciao!